Eccoci, sì, eccoci, sì, sì, eccoci qua, ciao, vedi c'è, sì, c'è la moglie che abbiamo visto anche oggi, scendo da loro casa a Londra, cioè, sì, eccoci, appena è entrato nella macchina che adesso lo porterà a casa, lo porterà a casa, lui abita nel quartiere Varioli un piccolo break per lui, poi lo ritroveremo in campo a Trigore nel pomeriggio con la firma e la preparazione del Monday Night, perché ricordiamo che sarà in panchina lunedì sera nella sfida contro l'Empoli con, tra l'altro, diverse situazioni che è già a Chiare perché ha visto tutta l'ultima partita della Roma, sa, è rimasto in contatto con i dirigenti, si sa molte cose della Roma e riprenderà, soprattutto, poi, dai giornalisti che saranno a disposizione, considerando che mancano De Rosso per il pochino, Lorenzo Pettino, la presqualificata, come Dzeko, un calciatore di lui, ammira tantissimo, mancherà anche per squalificare cosa... Attenzione che si sta per aprire il cancello, attenzione a Rimani... Il cancello, tra l'altro, chiaramente, non avete l'opio della telecamera, ma ci sono tantissimi... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie. Grazie.